La SICMA Energy Gas scelta dalla Conf Commercio Provinciale di Salerno come partner del settore energetico sarà presente all'Assemblea elettiva degli organi sociali della Conf Commercio Territoriale che si terrà venerdì 26 maggio alle ore 11.30 presso l'Aula Consiliare del Comune di Agropoli. Ci teniamo molto ad essere presenti per dimostrare in maniera pratica il nostro pieno sostegno alla Conf Commercio che sta portando avanti una grande opera di riorganizzazione sindacale in provincia di Salerno. Ha ribadito l'amministratore delegato della SICMA Energy Gas Pierluigi Punzi. Sarà anche l'occasione per presentare anche ad Agropoli il senso della convenzione stipulata che mira ad offrire una serie di opportunità al territorio e dai suoi cittadini come l'allaccio gas a prezzi scontati, il costo di allaccio anticipato da noi e diluito in 12 rate mensili così come l'acquisto della caldaia che la SICMA anticipa e che l'utente può tranquillamente scontare a rate. Sono piccole economie e iniziative tese tutte a rivitalizzare i consumi che offriamo ai cittadini di Agropoli per contribuire allo sviluppo del territorio e dell'apparato produttivo della provincia di Salerno.